ciao a tutti e bentornati sul mio canale siamo tornati qui su fifa 23 ma prima di partire piccola cosa da dire ho acquistato fifa 23 per pc un po perché ero curioso di provare la next gen visto che da quest'anno sul computer è stata introdotta anche la come in playstation 5 è stata introdotta la next gen anche perché avevo un'idea volevo mettere le mod per portare la serie c ho detto io faccio una carriera con la serie c e partendo la serie c però non so perché io non ho una scheda il computer abbastanza potente non ho una scheda video proprio fortissimo fortissimo fortissima senza mod mettendolo in in hd comunque il gioco gira abbastanza bene però con le mod non so se ho sbagliato qualcosa io andavo un po più a scatti e dovendo portare comunque un gameplay non mi sembrava una gran bellezza comunque portarlo andando il gioco un po a scatti non so se magari ho sbagliato a far qualcosa con le moto non saprei perché di questa cosa e quindi mi è venuta un'altra idea un nuovo progetto creato la gamer team avevo già intenzione volevo creare già fare la carriera da fifa 22 con le club diciamo creato una squadra creata e mi è venuto l'idea siccome non sapevo in che campionato metterla non volevo rifare nuovamente la serie a visto che con la regina l'avevo già ero già in serie a però la premier a questo arrivati a questo punto dell'anno mi scocciava perché un tacco di coppe poi se magari volevo partire anche dalla quarta visione inglese sarebbe stata una carriera lunghissima e partendo già da fine maggio ora sto registrando lunedì 29 maggio sarebbe stato un po lunghi cino spagna non lo so non mi convinceva arrivati a questo punto magari in spagna allora cosa ho fatto creato una sorta non dico proprio super lega ma penso un campionato europeo perché ho mi sono basato un po più o meno con le squadre da inserire tipo reking wefa praticamente la storia è questa mi ha contattato un mio vecchio amico chicco per perché ha acquistato fifa wefa le acquistate lui ha creato una squadra la gamer team appunto e voleva me come direttore sportivo io ho detto più che altro perché direttore sportivo socio ho detto guarda non non ho più soldi ho fatto tanti quelle carriere non ho più soldi da investire non voglio più investito ha detto non ti preoccupare amico mio io metto tutti i soldi sono presenti tutti i soldi tu almeno come direttore sportivo mi trovi allenatore che tu dici e possa essere un allenatore forte e ti vedi tu con tutti gli acquisti infatti mi ha dato la bellezza di 500 milioni tanto acquistato fifa uefa quindi con il come si dice oddio ce l'ho sulla punta della lingua a col fair play finanziario mi è venuto in mente può chiudere gli occhi dai vuoi favorirci un po come grandi club su non ci dirà niente è praticamente ho inserito nella serie ha fatto la serie a così ha solo la coppa itale che potremmo nominare coppa europea facciamo che questa seriata non è la serie a team ma che so l'elite serie serie non lo so o campionato europeo semplicemente inserito in serie a mi sono basato un po sulle classifiche attuali per decidere chi mandare in serie a serie b e ho scelto messo più squadre mi sembra cinque squadre di premio perché la premio diciamo nel ranking fifa e we fa prima in classifica il massimo è considerato il massimo campionato al mondo e quindi ho messo più squadre di premier prove le vado a elencare così allora c'è l'arsenal atletico madrid bayern bonaco borussia poi c'è la real gamer team ho messo real e anche il leone con la corona non siamo i re dobbiamo essere i re real gamer team ci ho messo il real davanti sembrava come dire più più importante c'è il barcellona perché ovviamente ha vinto il campionato quindi ho preso tutte le prime squadre dei sei campionati europei infatti c'è anche il fene jord messo per le squadre olandesi un posto c'è l'inter della lazio che attualmente è seconda in campionato e quindi l'ho inserita liverpool manchester city che ha vinto il campionato inglese manchester united c'è il milan e quarto quindi ho inserito le prime quattro squadre italiane e il napoli che ovviamente ha vinto il campionato il newcastle il paris saint germain illizia e lenzia le squadre francesi ho messo solo due posti disponibili real madrid e real sociedad ho messo anche quattro posti per le spagnole quattro tre posti solo per le tedesche non ho proprio seguito alla lettere il ranking però vabbè poi invece in serie a non non si può andare vedere davvero da altri campionati vediamo di altri campionati altri campionati serie b in serie b ho messo aston villa atalanta athletic bilbao l'everkusen brandford brighton cosa su una francoforte fulham juventus eventus in serie b non vorrei essere profetico io non credo che la mandi in serie b però l'ho messa semplicemente perché poi dopo le i primi quattro posti messo altri quattro posti per l'italia e la juventus attualmente è settima quindi per forza in serie b dice che poi c'è lille marsiglia piessen dove nel real betis roma riburgo torino spurs ospur e via real quindi mi sono basati sulla classifica attuale e quindi poi se alla fine del campionato cambia qualcosa io l'ho fatta prima quindi come allenatore ho scelto il caro carlo ancelotti allenatore grande vincente italiano non sincero volevo scegliere conte perché ho detto io voglio vi voglio come dire spatare il mito che non vince in europa quindi lo volevo far vincere in europa però non c'era nel per totena mi è cambiato non c'era tra gli alle non lo so se stava in qualche posto nascosto però non fa niente ho scelto il il ho scelto conte andiamo a vedere lab rosa o 23 giocatori ovviamente squadra creata se josé manuel santana portiere 23 n 81 squadra molto giovane scelta abbastanza forte ho tutti cinque stelle perché volevo iniziare doveva iniziato dal basso con la regina voleva iniziare da forte poi lo scegli infatti ho messo come obiettivi massimo non importanza i giovani c'è del vivaio perché vuole spendere i soldi giustamente questo vedremo di magari di rinnovarlo 23 81 quanto prende già di stipendi ovviamente in fa stipendi abbastanza alti perché un top team poi c'è todd come secondo portiere ventunenne 80 quindi vediamo chi andrà via che rimarrà perché sono tre i portieri c'è luna 19 n 78 poi c'è jorgensen 24 anni 84 le ho fatti un po modificato e i giocatori infatti le ho fatte abbastanza alti perché a me piacciono altri peccato che non si poteva giocare anche con l'overall magari cambiare qualcosina poi c'è nicolas ha anche l'abilità di punizioni potenti quanto c'ha di punizioni 62 precisione poi c'è paul difensore centrale 24 anni 87 e romeo italiano 93 20 anni mamma mia ovviamente l'età ho messo io però all'ora non a meno pieno non saputo vedere io non si poteva fare modifiche poi c'è santos 22 anni 86 brasiliano arias colombiano 19 anni 85 navarro 22 anni 79 gonzales 26 anni 85 jack 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 jackob son non so come se vuole sviluppare e svedese 23 anni 89 lucas 19 anni 75 pr 17 anni 80 sorrentino 17 anni 87 italiano dentro campista martins 23 anni un 81, Marino 22 anni 90, questo è un trequartista, Logan 23 anni 87, Marine 22 anni 82, Rojas 18 anni 72, Spagnolo, Lenderson ho voluto modificare visto che nella carriera portiere c'è Benji Price, nella carriera giocatore non poteva mancare Mark Lenders, 17 anni 93, finalizzazione 98, il nostro gioiello giapponese, non mi son messo sinceramente a modificarlo anche di viso, non fa niente dai C'è Newton 18 anni 70, questo si potrebbe mandare anche in prestito, e giungo 23 anni 81, o mando lui, perché avevo intenzione di prendere un altro attaccante, ho già le mosse da fare Perché 500 milioni, mi ho messo di budget, e li devo spendere Allora, prima dei vari piani crescita, vabbè che li posso fare anche in off camera Anche voglio andare a vedere la formazione, perché ci parto con un 4231 Che però io vorrei modificare, non vorrei utilizzare, è stato il modulo di partenza se ricordo bene con la regina Il 4231 Ma io vorrei andare ad utilizzare Un modulo che nella mia ultima carriera, perché sto usando e che voglio continuare Per playstation 4, comunque mi alternerò, perché ho iniziato anche una carriera così Qui, perché volevo provare, no, le nuove cose della next gen, poi dovevo testare anche il gameplay Voglio provare, no, dove era? Il 4 423 4321, eccolo Però modificando, quindi Voglio rendere queste più AS così E più AD così Quindi più larghi E la punta centrale, ovviamente Poi in off camera, ora non c'ho voglia, sinceramente mi farò Le tattiche Le istruzioni Eccetera Dunque, ora però bisogna andare a cambiare un poco Allora Chi rimane? Chi se ne va? Purtroppo qui non credo, vedremo partite Abbrosa, allora Santana Vale 27 milioni e mezzo, ancora un anno di contratto Io quasi quasi Io quasi quasi Uno di questi lo vendo sicuramente perché non simulando tre portieri mi sembra troppo per una carriera Quindi Lui lo vendo, non fa niente che prendo più poco perché potrei rinnovarlo, però non fa niente dando 500 milioni E se ne va E se ne va In parte Tod Io lo terrei almeno un altro anno come prova come Primo portiere, secondo portiere, andrà a prendere poi Qualcun altro Tanto 500 milioni da spendere Luna Portiere spagnolo Lui sapete che cosa farei? Rinnovo il contratto Allora, gli rinnovo il contratto e lo manderei in prestito Anche perché non voglio fare una carriera lunghissima perché siamo a fine FIFA Però Almeno penso un 2-3 anni sicuri No, 2 è poco, però 3 anni tipo Si può durare questa carriera Allora Ed è Verosimile, dai, ma comunque Pure che non Lo metta al centro del progetto Mandarlo in prestito Pure che con noi non giocherà mai Perché Si fa così anche in realtà Mandare in prestito Poi magari un giocatore Non gioca mai con quel club Intanto, belle torte Allora, guarda, ti concedo un rinnovo di 2000 euro E ti do un bonus ingaggio da 100.000 Ok, mi sembra un'offerta ego Beh, ho dato pure 2000 euro in più Ti mando in prestito Poi c'è questo Jorgensen Danese Che io potrei Vediamo perché a me piace Quando sono molto veloci Quasi quasi Ti metto lista trasferimenti Vediamo Nicholson Ecco lui già È un'altra cosa E me lo potrei anche tenere Tra l'altro ha pure Punizioni potenti Quindi Vediamo il contratto Ha due anni di contratto Prende già 75.000 Di stipendio Se lo rinnovo allora Il prossimo anno Dai Intanto Allora Visto che cresce ancora Io non vorrei Da subito sfruttare il bug Che mi permette Infatti E in una carriera Sfruttando il bug Che cambi Posizione Poi vi mostrerò Nelle carriere personali Attualmente Di Lorenzo Mi è arrivato a 90 Addirittura Metto laterale invertito Va Visto che cresce ancora A 23 anni Sfrutto Normal Lui 109 milioni Prende 96.000 Quattro anni di contratto Quindi Tende una butta di ferro Assolutamente Rimane Cresce anche ancora 10 settimane Può migliorare anche un po' La velocità Romeo Anche per lui Italiano Lui è il capitano Da come si vede Che è già la fascia E deve rimanere Prende un bel botto Di stipendio Io proverai un rinnovo Di contratto A ribasso Vediamo se lo accetta A ribasso Se noi poi Posso sempre Riprovarci A rinnovarlo Nel corso Della stagione Prolungamento di 3 anni Mi sta bene Così Ha 5 anni Di contratto Ed è blindato Per tutta quanta La carriera Allora Ti faccio Ti voglio fare 120.000 A settimana E ti metto 500.000 Di bonus In gaggio Più Così per invogliarti Per reti inviolate 20 reti inviolate Avrai altri 500.000 Di bonus In gaggio 125.000 Allora Reti inviolate Ti posso anche stare 800.000 Ma 25 Reti inviolate Lo stipendio Mi va bene A 125.000 Bonus Facciamo 1.000.000 Di euro Dai Ti rimango 1.100.000 Ma le reti inviolate Devono essere 25 Troppo poco 5 reti inviolate Ok Accetta 125.000 A settimana Quindi riduciamo Anche il monte In gaggi Bene così Andiamolo ad allenare Anche lui Difensore centrale 22 settimane Santos Ha 4 anni Di contratto Quindi lui Sta a posto Vorrei Tenere anche lui Difensore centrale Anche lui Arias Vediamo Sì Lo potrei tenere Lo potrei tenere Anche lui Andiamo col Piano di crescita Vediamo Ecco Lui per esempio Già ci mette 30 settimane Solamente Per crescere Quindi io vado Del trucchetto TS Navarro Navarro Oddio Al primo anno Non dovrei avere Coppe europee Quindi Tecnicamente Come panchinaro Ci può stare Non penso Si è Penso Si è inutile Andare a investire Poi Per un altro Poi magari Si lamenta Quindi io Lo terrei Poi vediamo Se magari In corso Allora Aspetta Lui pure Tanto Quindi Poi magari In corso Dopera Mi viene in mente Un acquisto Lo utilizzo Allora Loro Mi dispiace Perché sono Cdc Io vorrei cambiare Il modulo Però Se possono Cambiare ruolo Lui Me lo terrei Francamente Però mi deve Cambiare ruolo Deve diventare Se no Malincuore 46 settimane Non c'è un altro ruolo Che possa fare Difensore centrale Non mi serve Poi ci metto Comunque 17 settimane Allora Oh mi spiace Fabrizio Ma te ne vai In lista Trasferimenti Jakobson Lo stesso Speriamo Possa Cambiare ruolo Niente 312 Settimane Nulla Se ne vai In lista Trasferimenti Mi spiace Ci faremo Dei soldini Almeno Lo stesso Vale Per Lucas Andiamo A vedere Ora Il più Scarso Non si può Trasformare Si mette Anche Di meno L'inonia Della sorte 68 settimane Te ne vai In lista Trasferimenti PR Anche perché Modulo Non lo vorrei Cambiare Sinceramente Una Clasola Recissoria Da 48 Milioni Di euro Allora Lui Fammi vedere Un po' Le statistiche 81 Beh come Panchinaro Ci potrebbe stare Come Panchinaro Finalizzazione 65 Anzi Sapete che faccio Quanti anni di contratto Ancora 4 Io lo mando in prestito Sorrentino Centrocampista Centrale Italiano Beh lui Potrebbe anche Rimanere Una buona Una buona finalizzazione Per un centrocampista Secondo me Quindi lui Rimane Quanti anni Di contratto A 3 Va benissimo Piano di crescita Box to box Vai Quindi lui Rimane Poi c'è Martins Brasiliano Ancora un anno Di contratto Vediamo un po' Le statistiche Ha una buona finalizzazione Anche lui Sono molto indeciso Su di lui Non so che fare Ha un anno ancora Allora Facciamo così Io la prendo Come un segno Del destino Se accetta Un rinnovo A ribasso Rimane Ovviamente Se poi arrivano Offerte Rinunciabili Vediamo Se partirò Però Non lo metto Sul mercato Se accetta Un rinnovo A ribasso Sporatico Altri 4 anni Di contratto Va bene Aumenta 5 Non inseriamo Alcuna clausola Tanto non so Il tuo valore Effettivo sul campo E non mi sembra Granché Mettere poi Una clausola 50.000 Di stipendio E ti do 250 Di bonus In gaggio Vediamo Se accetto 51.000 300.000 Di bonus Ok L'ha accettato E allora Non lo metto Sul mercato Andiamo Andiamo col piano Di crescita Ah Tra l'altro Un piano di crescita Anche più Velocizzato 6 settimane Vai Si è marino Tre quartie Una clausola Da 281 milioni Di euro Mamma mia Mamma mia Prende già 140.000 5 anni Contratto Per Se pagano La clausola La clausola 281 Potrei Lasciarlo partire Però Aspettare Devo Vedere se può diventare Un'ala In teoria Si Perché se no Io ho cambiato modulo Non ho il trequartista E nella T Perché io volevo Comunque gli esterni Vediamo Tecnicamente Penso Possa Peccato Veramente 2290 Non poterlo Sfruttare Aia 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 No Ma io questo Lo voglio Però AT Nemmeno può Cambiare Posizione AT Scusa Un ruolo Che può già fare Non si smentiscono Mai Questi degli euro Un ruolo Che può già fare 121 settimane Cioè Mi porta a C barra T Ma è assurdo Allora Facciamo così Facciamo così Io me lo tengo A meno che non pagano La clausa Se pagano la clausa Lo lascio libero 281 Io lo tengo E lo testo Comunque lo metto Come esterno Se poi non dovesse Andare bene Se è sempre Gennaio Lo venderemo A gennaio Logan Eh questo Ne è un altro Vedi Fortino Però È un po' lentino Per i miei gusti E lui Allora si può lasciare Anche partire Senza che mi metto A vedere Se può cambiare Un ruolo Lui ha una clausola Anche lui non è Perché lui comunque È un trequartista Lo mando in lista Trasferimenti Rojas Una finanziazione Bassa Io lo manderei In prestito Va Domando a crescita Attenzione Un anno di contratto Quindi rinnoviamolo Allora Io metterei Sporatico Lo accetta Ti farei Un rinnovo Di altri tre anni Le accetta Accettiamo Di non inserire Il clausola La recessoria E farei Un rinnovo A ribasso È vero che abbiamo Gli sciichi Però qua Nessuno è fesso 15.000 Ti faccio 100.000 di bonus In ingaggio Alla firma Dai 17.000 con 150 Allora 17.000 con 50 Di bonus Alla firma Accetta Ok Quindi abbiamo ridotto Anche qui l'ingaggio In prestito L'ho già messo Lenders Assolutamente Rino C'è Ha tre anni Di contratto Non è velocissimo Però vabbè Ha una finalizzazione Di 98 Questo non deve Fare altro che gol Poi ho già in mente Il sostituto Cioè il sostituto L'alternativa ideale Piano di crescita Assolutamente Deve crescere ancora Può farlo Attaccante mobile Va Il miglioro Le altre cose Me ne frego Un po' L'accelerazione La velocità Scatola Finalizzazione A 98 Cioè Non mi fossilizzo Può arrivare comunque A 99 Di finalizzazione Però vabbè Newton Io questo qui Quasi quasi Manderei lui In prestito Perché è un peccato Farlo fare Secondo me Come terzo Attaccante Soprattutto Che ruolo Ah vabbè Rullo sporadico Comunque Beh allora Quasi quasi Io ci mando Lui In prestito Ci mando Lui Quanti anni Ancora di contratto Due Ci mando Lui in prestito Mi tengo Lui come Terzo Attaccante Rinnoviamo Il contratto Al Tedesco 23 anni Ruolo promessa Lo accettiamo Allora Altri 5 anni Di rinnovo Li accetta Quindi un contratto Di 6 anni Vediamo Se riusciamo A fargli A ribasso Anche a lui Te ne offro 50.000 E ti metto 250 Di bonus Ingaggio 58.000 Beh comunque A ribasso C'è Il bonus Ingaggio Però 300.000 Così ci sto Accettato Un altro Ben rinnovo A ribasso Lì rimarrà Come terzo Attaccante Quindi Delineata Un po' La rosa Io dovrei Aspettare Le cessioni Prima di Acquistare Anche se Voglio andare A prendere Comunque Dei giocatori Se no Me li possono Fregare Non Ho deciso Anche di mettere Di non Puntare Ai giovani Anche perché C'è qui Avendolo Acquistato Dopo Non ho Come nella PS4 Il Il giovane Dalla Primavera Poi mi Documenterò E perché Voglio vedere Io Quasi sicuramente Andrò a Prendere Il gioco IA Il prossimo Anche Per settembre Il IA Sport Va Il nuovo Gioco E vedrò Bene I requisiti Perché se i requisiti Di sistema Sono più o meno Come questi Allora potrei pensare Di prenderlo Direttamente Da pc E Sfruttare Nuovamente La next gen O Altrimenti Se vedo Che i requisiti Sono più alti Di questi Io comunque Il mio punto Debole È la scheda video Che non è Quelle nuove Non è nemmeno Rtx Ma è una gtx 1650 Quindi Non posso Pretendere Troppissimo E quindi Se me li aumenta Sfrutto la Playstation 4 Fa niente La next gen Fa niente Sfrutterò Quella Allora 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 Andiamo A prendere I giocatori Farò vedere I giocatori Che voglio Subito Prendere Colpi A effetto Per lo Sceicco Lenders La degna Alternativa De Ozyman Voglio Strapparlo Al Napoli 90 Di finalizzazione Anche lui È bravo Di testa È una bestia Veramente Su questo Gioco Ma anche Nella realtà E andiamoci A trattare Col Napoli Quindi sarà L'alternativa Al Lenders 6 Grattacapi Ora del Mestre Allora Andiamo A mettere Qualcuno Come contropartita Ma Newton Vale poco Magari I centrocampisti Di cui Mi devo Privare Allora Io Metterei Metterei Lui Martins 36 Milioni E mezzo In più Te ne do 50 Con una Clausola Fissata Fissata Al 3% Sul prezzo Di rivenita Vediamo che dice 85 Più Pedro Martins Ah quindi Non vogliono Questo non è quello Che avevo Ho sbagliato io Aspettate Ho sbagliato io 44 44 milioni E mezzo 44 milioni e mezzo Più 50 Mi devi perdonare ADL Se ti ho messo lui Ho sbagliato io Per un totale di 94 milioni Quindi 76 Se schioda No Ho sbagliato Volevo mettere avanzo offerta Mi ha messo perché Sto con il Controlle Dell'Xbox Mannaggia Volevo Abbassare 76 Pili Beh dai Fa niente Su Trattiamo Vediamo con lo stipendio Se no ci riprovo E la faccio meglio Secondo me l'ho pagato tanto Vediamo se accetta il turnover Con l'endersi Lo accetta Così bene Che accetta il turnover Vabbè Come dire Lenders Allora Stipendio Vediamo se accetta il ribasso 70 mila Ti do 500 mila Di bonus E poi ti metto un bel bonusetto Sui goal Se me ne fai 20 Ti do altri 500 mila Vai Ti voglio assegnare 85 mila Beh Il stesso stipendio Più o meno Che prende a Napoli Non vuole bonus goal Allora io Te ne do 500 di ingaggio 85 mila Mi fa risparmiare 1000 euro Ragazzi È generoso Ecco qui Usi Man Che entra Finima il pallone Abbiamo preso Un top player Comunque Passa La Gamer Team Con Ancelotti Che lo accoglie La Real Gamer Team Accettate l'offerta Pecvara Ok 60 milioni di euro Alla fine Fessi l'oro Perché con il giocatore Che gli avevo messo Sarebbero andati a guadagnare Perché 63 milioni Li valeva Li valeva solo quello Più 7 Gliene da Quindi glielo avevo valutato Tipo 70 milioni Anche se L'avebbero guadagnato di più Perché quello Se lo volevano rivendere Non lo rivendevano a 70 Anche di più Contenti l'oro 60 milioni di cash Promessa Addirittura Accetta Che vara Hai capito 5 anni Ignoriamo la classe Registoria Stipendio Ti do 50 mila Con 400 mila Di bonus Ingaggio Ci aggiungo Se mi fai 15 gol Te ne do 500 mila Mi sembra Equa E infatti Accetta Quindi lo invoiamo A segnare Dai se mi fai 15 gol Io ti do Questo bonusetto Eccolo Chi arriva Vabbè Saltiamolo Perché queste le sappiamo Ormai le scenette Quindi 60 milioni di euro Arriva Alla Real Gamer Team Abbiamo sottratto A Napoli Forse i due Principali Campioni Anche lui Ha belle statistiche Ha tiro di precisione Classe Libratore Veloce Andiamo ad acquistare Speriamo che accettino Qualche contropartita Perché io devo liberarmi Dei giocatori Che purtroppo Non possono fare Il ruolo Allora Ti offro lui Gonzales 63 milioni E più Te ne metto 7 La stessa offerta Che ho fatto A Napoli Vediamo Che siete intelligenti Da accettarla In più Clausola fissata Al 4% Sulla futura Rivendita Hanno accettato Bravissimi Hanno accettato Ma forse perché No non è scadente Vabbè Speriamo quindi Di firmare Con le almeno Mi sono sbarazzato Di un giocatore Fuorirose Ormai E di un gioco E soprattutto Le al mi è costato Alla fine 7 milioni Di euro Poratico Addirittura Bene Così Posso variare Si incazzano Bene così 5 anni Di contratto Si abbassa Dello stipendio Peccato Io di nuovo Volevo fare Con i gol Però lui Il bonus Lo vuole con le presenze Guarda A 25 presenze Ti rimango così Accetta A posto A posto Arriva anche Rapaleao Eccolo qua Tutto bellino Quindi acquisti top Ovviamente Siamo un top Credo Dobbiamo vincere Dobbiamo vincere Allora voglio sfruttare Guardate quanto Diciamo Ha influito Cambiare La squadra E spostarle In B Chiesa Solo 10.500 euro Di stipendio A settimana Quindi come altro Io lo Lo prendo Dalla serie B Lo faccio giocare Il massimo campionato Voglio Chiesa Anche lui Mi sembra abbastanza Forte Non lo provo Da diversi FIFA E Chiesa Non mi ricordo Se da FIFA 19 Addirittura Che lo prendevo Che era un po' Più deboluccio Lì Che stava ancora La Fiorentina Se non erro Quindi proviamola Ad acquistare A limite Metto anche qui Qualche contropartita Tecnica Che magari Può interessare Scambio giocatori Ti metto il portiere Che voglio vendere 27.500 Se poi non lo riesco A scambiare Non mi arriva un'offerta Lo scambio per un portiere Importante Allora 27 Te ne do 30 Avanziamo Questa offerta Non vogliono Sant'Anna Vogliono 85 milioni Ok Vediamo Centrocampisti Eh ma Mi sono rimasti I cdc potenti Qua Che non posso scambiare Se me lo Allora Mettiamo lui 14 milioni E in più Te ne do 60 E la clausola Della rivendita L'abbassiamo Però A 4% Vediamo Se accetta Charles Lucas Lo vogliono Ok Quindi mi sbarazzerei Anche di lui 5% Sulla futura rivendita Però Abbassiamo 65 Dai Le pretese Ti metto Ti metto Una clausola Al 5% 83 milioni Ma perché Mi sbaglio Ogni volta Mi sembra Un po' Sprecato Come terzo Attaccante Allora Io tratto Perché Due anni Sono tanti Però Un anno Ce lo accetto Poi Se si dovesse Infortunare qualcuno Cara Roma Io pago pure Una penale Quanto vuoi tu Me lo riprendo Però Roma Devi pagare Il 60% Di stipendio E lo paga Quindi Ora sta Aggiunghi Se vuole andare Comunque A giocarsi Il post Dolare In serie B Oppure Rimanere Qui E fare Il terzo Attaccante Era Accettato Io dovevo Pagare 30 milioni In più Ma perché Trattiamo Con Menian Quindi Strappiamo Un altro Campione Al Milan Andiamo Indebolire Una Competitor Arriva Mike Menian 50 milioni Più Santana E me lo Voleva Fagare 80 Chi è Cavolo La faccia Dove Tagliare Tagliare Sono arrivato 1 ora e 9 Non me ne so Accorto Quindi Iscrivetevi Al canso Ancora 23 luglio Iscrivetevi Al canale Cerchiamo Di arrivare 500 iscritti Possiamo Farcelo Lasciate Un mi piace Attivate La campanella Per non Perdere I prossimi Video Bye